La Valle dell'Urio di Albino, che comprende le frazioni di Vallalta, Fiobbio, Abbazia, Dossello e Casale, è al centro di una sempre maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale, che di fatto si traduce in un miglioramento dei servizi e in una più ampia partecipazione alla gestione amministrativa della città. Proprio da gennaio, sottolinea Monia Carrara, assessora della Valle dell'Urio e per i rapporti con le frazioni albinesi, viene istituito un presidio della Polizia Municipale Locale, che sarà presente con due agenti nelle frazioni della Valle a disposizione della cittadinanza con l'intento di raccogliere segnalazioni inerenti ai servizi di polizia, di abilità, smarrimenti, sicurezza, eccetera, e dare informazioni e chiarimenti in merito a pratiche e a vempimenti. Tutto questo per dare concretezza, evidenza all'assessore, ad alcune azioni che hanno visto recentemente operativo il ripristino del seggio elettorale a Casale e la convenzione di 60 giorni all'anno per uso pubblico. Inoltre, risulta operativa anche la CAC, curati a Vallalta, diventata sala civica, e i ricevimenti assessorili serali in quattro frazioni su cinque. L'amministrazione comunale si è inoltre impegnata per portare a conoscenza dei cittadini dell'oltre serio informazioni su eventi che si svolgono sull'intero territorio e la convocazione di pubblicità pubblica assemblee su tematiche di frazione e di viabilità. Da ultimo è stato approvato il regolamento per la commissione della Valle del Luglio come occasione di forte impegno, responsabilità e promozione alla partecipazione. Da Albino, lì nello studio.